Un 56enne di Ruffano è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi agli esami per rilevare l'assunzione di alcol, o stupefacenti e usurpazione di titoli. L'uomo mentre viaggiava a bordo della sua auto lo scorso 1 maggio è stato fermato in una strada di periferia dai militari a causa dell'eccessiva velocità, in evidente stato di alterazione psicofisica alla richiesta di sottoporsi ad accertamenti utili a verificare l'eventuale assunzione di alcol o stupefacenti. Il 56enne però si sarebbe rifiutato, spacciandosi per un avvocato e minacciando i militari. Alle aggressioni si sarebbe aggiunta anche la promessa di rivedersi presto in tribunale, motivo per il quale al termine dei controlli i carabinieri hanno proceduto con la segnalazione alla competente autorità giudiziaria.